Musica 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 Anche ogni tanto mi fermo a volte a pensare come mi sono trovato Come sono in futuro Non l'avevi previsto Ci sono io e c'è Giulia, Irene e Lamar Musica 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 Tu devi dimostrare, hai capito, alla persona che ti fa l'esame che hai questa competenza e te la sei meravigliosa solo senza farne studiare. E poi, no, vorrei farvi vedere all'inizio, proprio all'inizio del... Qua. Cioè questa scena qua l'abbiamo ripresa. And it's a river which burns with fire.